cari amici di ora tu un saluto a tutti e questo video ve lo mando da una posizione molto particolare che è da questo nave traghetto abbiamo il mare dietro di noi questa sera riattraverserò la adriatico torneremo in italia un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che attraverso questa finestra sul balcane mi hanno aiutato a realizzare tante cose ora la missione continua e continua all'interno delle nostre case della nostra terra i missionari siamo stati chiamati a incontrare culture popoli religioni diverse e provare a costruire insieme una famiglia e una casa comune adesso questa cosa noi missionari siamo chiamati a costruire la casa nostra inizia un tempo in cui vogliamo provare a fare una famiglia con le persone le religioni i popoli che vivono adesso in casa io vi ringrazio davvero per tutto quello che ho ricevuto però vi dico che continuo a contare su di voi per andare avanti a costruire la missione adesso a casa un saluto a tutti ci vedremo presto non vogliamo dimenticare anche questa terra che è stata la mia casa per quasi dieci anni cerchiamo di essere famiglia di volerci bene e di unirci grazie per tutto ci vediamo presto grazie a tutti